Può essere una valla per costituiti, può essere una valla per costituiti le droghe, ma in realtà gli ho visto i video sono veramente belle feste, cioè c'è lo chef, poi a una ragazza ti dici guarda c'è Belen, c'è questa gente di lavoro, una fondale, una modella, perché comunque è interessata a fare i contatti, non per forza si deve voler costituire, quindi a prescindere dal mondo un po' d'arte che ti sia dietro, non è che tu vedi le persone con i piatti davanti a te che ti fanno, di queste cose erano bellissime, magari sono più in privato, in camera, in pass, quindi una cerchia di persone, di rispetto, si trova a fare le droghe a quella festa, però c'è tanta gente che magari stava là e ballava, c'erano pippe, quindi comunque era una situazione invitante, alla quale una persona, capito, può anche volerci stare, taccina gigante, e non ho fatto che dire che bella casa, mi bella casa, mi sento tutti i giri con i miei amici, non ci vedevo niente di male, qualcuno poteva anche pagarle, le ragazze, secondo te? Sì, guardi, ci sono già i pochi di fare l'export Quindi cara giù